Il governo egiziano ha la caccia di Nefertiti. Il ministro alle antichità accoglie la teoria dell'egittologo britannico Nicholas Reeves, secondo il quale la tomba della regina è alle spalle di quella di Tutankhamon e promette che in tre mesi l'Egitto avrà l'impianto radar necessario per individuarla nell'antica città di Luxor.